ciao allora oggi vi parlo di questa terra della essence questa è la della sun club la matte bronzing powder del colore lighter skin quindi per pelle chiara la quantità la quantità è un 15 grammi ed il dato che è proprio finita vi mostro e qua il Grazie a tutti. Inoltre al colore di questa terra io vi consiglio il profumo, perché è un profumo che sa subito di spiaggia, di estate, fantastico. A me piace tanto, almeno a me piace tanto. È disponibile nella versione per pelle chiara o per pelle media. Io ho preso quella per pelle chiara, ma adesso l'ho ripresa per la pelle media, perché mi piace di più. La trovo più adatta alla mia carnagione. Quindi quella chiara è molto chiara e non vi abbronzate facilmente. Cosa dire, è differente di tutte le altre terre della Essence che ho provato fino ad ora. Questa è completamente matte, opaca. Che è una cosa fantastica, perché è perfetta come terra da applicare ed è sul viso. Oppure anche per il contouring, è perfetta. Io ultimamente vedevo tante terre con dei brillantini dentro, che è una cosa che a me non piace. Mentre questa davvero è fantastica. Non è polverosa, è bella mattificante. Colora bene, quindi ne basta poco prodotto da sfumare bene. E ti fa un effetto baciato dal sole, che è molto molto naturale. Io vi consiglio davvero di provarle, perché sono naturali e danno un aspetto subito sano. E si adattano perfettamente all'incarnato. E poi questo profumo che a me piace tantissimo. E oltretutto è completamente matte, quindi ancora meglio. Questa sicuramente è una terra che, vi ho già detto che ho ricomprato nell'altra versione, ma che continuo a comprare e a consigliarvi soprattutto. Fatemi sapere se l'avete provata, come vi siete trovate. E come sempre, spero di essere utile. E mettete un like al video e iscrivetevi al canale, così non perderete il prossimo accensione beauty sui prodotti low cost e accensioni così veloci. Ciao!